Salve a tutti, uocikebari, benvenuti nell'ultimo episodio del The Cartoon Show Summer. Oggi vi propongo per voi, come puntata finale, un cartonemato leggendario, Rabbids Invasion, della Nickelodeon, della regia di Hakama, Fabienne e altre persone che non so pronunciare i loro nomi, nato nel 2013, finito nel 2018, con tre stagioni. La serie parla di tantissimi conigli antropomorfi, nati con il videogioco di Rayman, che poi hanno avuto un successo straordinario e hanno avuto la loro saga e il loro cartonemato, tant'è che nel 2017 sono apparsi nel videogioco di Mario Plus Rabbids Kingdom Battle e quest'anno uscirà il seguito. Rabbids Invasion è un programma televisivo animato che parla di questi conigli che invadono la terra e crea uno scompiglio per le strade di tutto il mondo. Lo sanno tutti, i Rabbids sono esuberanti, stupidi e ignoranti, ma in questa serie abbiamo avuto la conferma che alcuni di loro sono romantici, intelligenti, astuti, hanno il cervello, eh, seppurre il loro modo di parlare è tipo un e così, ci sono anche degli umani che non sono neanche così tanto importanti, che o diventano amici dei Rabbids oppure li odono tantissimo, eh. La serie animata, io l'ho vista, stupido, ignorante e scemo, e in molte puntate erano tipo ma che cacchio sto guardando, mi intratteneva parecchio. Io non voglio dare nessuna insufficienza a questo cartone, vedere questi tizi, casinisti, andare in giro per il mondo, spaccare tutto, fare caos totale, un'invasione completa, era veramente spasosissimo, perché all'inizio i Rabbids tante persone li odiavano, ma poi dopo l'uscita di Mario Plus Rabbids tantissimi li hanno rivalutati. Rabbids Invasion è l'ultima puntata del cartoncio Summer perché doveva apparire nella terza stagione. Ho iniziato la mia serie con un cartone bellissimo, squallido, e volevo concludere questa stagione con anche un altro cartonimato che fosse strambo, non è perfetto, ma sicuramente è molto meglio di altri cartonimati di adesso, o anche che sono usciti prima. Finiamo questa stagione, nonché l'ultima, del The Carton Show Saga con Rabbids Invasion. È vero, volevo concludere tutto quanto con la seconda stagione e con la terza, ma questo è l'ultima volta che farò una recensione di un cartonimato, perché già ne abbiamo fatti 171, ma tutto questo non finisce ancora. Voi annunciarvi che presto arriverà la mia top 10 cartoni animati preferiti, dove voi scoprirete quali sono i miei programmi televisivi che io amo. The Carton Show Summer finisce. Grazie a tutti.